Cari colleghe e cari colleghi, buongiorno. L'obiettivo di questo corso è di individuare le strutture che uniscono la lingua italiana e la matematica per consolidare e costruire apprendimenti solidi con azioni efficaci validate negli anni. Queste discipline condividono molto, intanto il ritmo di base senza il quale non possiamo contare ma neppure dividere in sillabe. Inoltre, se non c'è una buona corrispondenza tra ciò che accade nel tempo e ciò che accade nello spazio, anche la scrittura di numeri, lettere e sillabe ne risentirà. Avremo così, ad esempio, le classiche omissioni e inversioni nei testi nel calcolo scritto, a discapito della comprensione. Vedremo quindi come applicare queste informazioni e altre ancora alla didattica quotidiana, andando dritti allo scopo e, questione non da poco, senza perdere tempo.